Non trovo una persona sofferente, avvicinatemi e presentatemi. Salve signore, sono un infermiere, l'avete in difficoltà, bisogna di aiuto? Tanto l'aiuto, mi sento male. Dove sente dolore? Sia tranquillo. Al braccio sinistro, al braccio sinistro sente anche dolore in petto? Sì, una... Ok, sta sudando, posso toccare il viso? Sì, sì, sì. Ok, perfetto, stia tanto così, non si muova. Prendete una sedia e fatelo mettere in seduta. Non si preoccupi, si mette qui in seduta lentamente, lentamente, così, poggi la schiena, respiri, tenga gli occhi chiusi, non si preoccupi, respiri, slacciamo gli indumenti stretti, stia giù con le braccia, va bene, non si preoccupi, adesso arriva il medico, lontano da lui fate chiamare il 118. Ogni polvolta, notate, un signore che riferisce dolore toracico, è affannato, è sudato, ma la pelle è fredda, si chiama sudorazione angida. Bene, quel dolore toracico può farvi sospettare un infarto, lo dovete mettere in posizione semiseduta, ma avvicinare la sedia a lui e non il paziente alla sedia. Grazie.